Spettabile Dottor Di Matteo, Presidente del CIRSU, le scrivo queste poche righe per ringraziarla. La cortesia con la quale lei questa mattina ha colto il mio cronista, che davanti al Tribunale di Teramo avrebbe voluto intervistarla per conoscere l'esito dell'udienza fallimentare del CIRSU, è stata davvero una grandissima prova di educazione, rispetto e conoscenza del proprio ruolo. No, con Teleponte non parlo, visto come vi siete comportati, ha detto. Ha ragione. Mi scuso, ci siamo davvero comportati male. Ci siamo comportati male quando abbiamo provato a contattarla per sapere cosa stesse accadendo al CIRSU, e lei non ha risposto. Ci siamo comportati male quando abbiamo provato a chiederle se avesse avuto notizie dalla Procura della Repubblica e lei ci ha chiuso il telefono in faccia. Ci siamo comportati male quando abbiamo sperato che davvero convocasse quella conferenza stampa che aveva annunciato. Ci siamo comportati male quando abbiamo sperato che il Presidente della Lega Ambiente Abruzzo, cioè lei, ci spiegasse perché della discarica del CIRSU, della quale altrettanto Presidente, uscisse per colato. Ci siamo comportati male quando abbiamo sperato che, in occasione delle contestazioni mosse dalla Regione al Consorzio Aquilano che al CIRSU scarica, lei volesse far sentire la sua voce. Ci siamo comportati male questa mattina, sperando che lei volesse dirci cosa fosse accaduto all'udienza fallimentare. Gentilissimo Dottore Di Matteo, mi perdoni, sono un gran maleducato, ma continuo a comportarmi male anche ricordandole che i denari che lei amministra e quelli che ogni mese come stipendio finiscono sul suo conto corrente, non so quanti perché purtroppo sul sito del CIRSU i dati sono aggiornati al 2011, sono soldi nostri, di noi cittadini, di noi che paghiamo le tasse. Credo che non si possa lavorare però per dei datori di lavoro di un maleducato. Non le chiedo un sacrificio così grande, immagino che lei sappia dove la porta. Viva l'Italia!